Grande successo per la seconda edizione delle collegiali di ginnastica artistica e ritmica organizzate dal comitato regionale XA in Calabria per il secondo anno di fila nella suggestiva località silana di Camigliatello. Quattro giorni di full immersion e ad una kermess scandita da esercitazioni e gare nelle due diverse discipline per gli oltre 100 partecipanti giunti da più parti della Calabria e anche da fuori regione. Sui palcoscenici allestiti a Camigliatello si sono alternati alcuni tra i tecnici più noti e riconosciuti del panorama nazionale. Alessia Fraz, atleta e agonista plurimedagliata, Giuseppe Cascone, giudice di primo grado vincitore di diversi titoli, l'olimpionica Elisabetta Preziosa, vincitrice della medaglia di bronzo agli europei del 2011, Alessia Lucia Marchetto, classificata a terza ai campionati nazionali assoluti e la vice campionessa italiana Elena Varallo. Ma non solo sport per questa edizione delle collegiali, infatti agli stage e ai momenti di approfondimento tecnico si sono affiancati momenti di svago con visite guidate al Parco Nazionale della Silla e alle altre principali attrattive della zona, volti e numeri che confermano l'importanza dell'evento e il suo posizionamento tra le iniziative più rilevanti nel panorama degli eventi di ginnastica organizzati sull'intero territorio nazionale. Grazie 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 Grazie